È la settimana del perdono di Montevarchi che prenderà avvio a partire da giovedì 30 agosto, un evento molto sentito da parte di tutti i cittadini e quindi anche dall'amministrazione comunale. Al centro delle festività, come di consueto, il senso della tradizione, della rievocazione storica su tutti attraverso il famoso gioco del pozzo, quest'anno però anche a livello culinario. Rievocare vuol dire ripetere e quindi da questo punto di vista non c'è insomma novità se non la voglia di essere sempre più fedeli alla storia, sempre più precisi. Negli altri campi naturalmente cerchiamo di mettere un po' del nostro e in questo senso quest'anno abbiamo dato molta importanza alla parte alimentare, culinaria, visto che aveva anche un po' di moda. Abbiamo fatto una ricerca su piatti e sapori del Medioevo e le vorremmo proporre con una degustazione particolare come presentazione ma non certo come sapori che sono sicuramente molto validi, molto tradizionali, molto inerenti alla nostra cultura. Un perdono che continuerà come da qualche anno a questa parte in modo specifico a coinvolgere anche le tante associazioni del territorio tanto che ci saranno alcuni eventi successivi ai fuochi piromusicali del 3 settembre che si protrarranno fino alla fine della settimana successiva e che ne saranno di fatto una lunga eco. La nostra ginestra è dintorni, si esibirà e verrà ospitata in centro, Piazza Varchi, con lo spettacolo che ha proposto in anteprima a giugno nella loro location che è la ginestra. E poi domenica ci sarà la cicloturistica e poi la processione la sera per cui diciamo è una lunga coda delle feste del perdono che si concluderanno domenica 8 settembre.